Amici miei proseguiamo con Lego Marvel's Avengers. Dovremmo trovare due cose qui, non so che cosa cazzo chiede. Sono undici e mezza, bella, ma non troppo devo riuscire a comprarmi il perno adesso, non viene male. Ah, penso che siano qui, eh? Noni? No, vabbè. Ah, qui? No. Eh, oggi vorrei finire il gioco, perché manca solo i giochi ultimi. Eh, almeno così credo. Adesso ho visto come sono i ritmi in questo gioco, che nel senso... Va abbastanza spedito, dunque, non dura così tanto, quindi... Dovei riuscire a finirlo oggi senza... ...terroppissimi problemi. ... ... io sto distingendo cose e sempre si è fatto non so che cazzo fare ma posso con Tony? ma baffan baffan ok 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 Nel laboratorio di Strucker ho visto dei lavori di robotica alquanto avanzati. Sono certo che qualcosa bolliva in pentola. Oddio, ma io in realtà la cartella lo sto registrando di sto video. 100-600 lo sto registrando nella cartella di Jack Flag. Poco massimo! Chiudo, cazzo. Come sta dove? Va bene. Utiliamo una funcina. Eww. Non dovrebbe servire più, no? Non dovrebbe servire più, no? No, non dovrebbe servire più. Diamo tuoi. no Ah, Jarvis. Dottore. All'inizio Jarvis era un'interfaccia utente di linguaggio naturale. E quindi l'altro sarà... ...la Iron Legion. Gestisce la più grande fetta dell'azienda dopo Pepper. Il top del top. Sì. Sospetto non per molto. Ed ecco Uton. È bellissimo. Dimmi, a te cosa sembra? Sta pensando. Intelligenza artificiale. Se imbrigliassimo questa energia e l'applicassimo all'Iron Legion... È un sé grande quanto una casa. Pace per tutti. Immagina. Cosa ci è sfuggito? Ricercherò variazioni sull'interfaccia. Grazie, caro. Si diverta, signore. Come sempre. Che cos'è, prego? Salve, sono Jarvis. Tu sei Ultron. Sono programmato per la pace. Creato per... ...aiutare gli Avengers. Hai un malfunzionamento. Pace per tutti. Questo è troppo. Se mi permettessi di chiamare il signor Stark... Perché lo chiami il signore? Credo che tu abbia intenzioni ostile. Shhh. Io. Non sono un'esperta, Stark. Ma questa festa mi sembra un po'... ...moscetta. Eilloci per. È così. no 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 questo non è fatto per uomini mortali non è che io tendo negativi ci sono stati non è vero 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 lei eh il tuo mondo è pazzo è pazzo è vero è vero è vero ok è vero Grazie a tutti. Torna qui, torna qui, torna qui. Torna qui, torna qui, torna qui, torna qui, torna qui. E gli dico, boom, stava cercando questo? Boom, cercava questo. Per l'ennesima volta, Rory, abbiamo credito. Un carro armato. 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 Sì, non lo faccio a cura. No, scusate. Vedete? Allora, credo che l'ho fatta. No, credo che l'ho fatta. L'ho lasciato il martello. Tutti vanno a salivare il nostro territorio. Quella è qui. Mi stendo ogni volta che mi voglio uscire. E io vi uso il mondo che vuoi tenere qui per te. Sì, non lo faccio. No! Grazie. Questo è un bacio. Questa è un bacio. Questa è un bacio. Ehm, che è facile. E, che è facile. Ehm, che è facile. Oh no. E dai, guardia. U ropes. ok ok Non lo vado a vincere, non lo vado a vincere 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 Distruggiamoci un po' le tasche della casa Non lo vado a vincere Oh no! Hmmmm... Ah cool! Asa, no! Sì, 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 sì. non c'è un po' di più No, perchè quello non mi viene più messo in città uno. Per la quale abbiamo messo in città uno. Voglio mangiare un po'. Oh, voglio il gusto a fragola. Anzi, non cioccolato. Excelsior! Ma è un trucco? No, è molto più di un trucco. Prego, accomodati. Tanto ho visto come si fanno. Senti il giudizio alleggiare? Prego, Stark, è tutto tuo. Sei nella mia squadra? Datti da fare, tira! Va bene! Capitano! E' uguale. E' uguale. Stark? Scusate, ero nel sonno. Oh, ero nel sogno. Ed ero approvigliato nei... nei... fili. Chi ti ha mandato? Vedo un'armatura a protezione del mondo. Ultron. In carne e ossa. Sono in missione. Quale missione? Pace per il nostro tempo. Pace per il nostro tempo. E' inizio. Uuuuuuuuuuuh. Que' ne è questo? Ah, immagino che la festa sia finita. E' rinascendo i baschi. Cosa li lo fa pensare? Siamo qui per voi. Va bene. Ah, mi devo saldare io, grande. Che è questo? Abbiamo un'opportunità. Quattro, tre. Allora. Che devo fare? Ah, ok, beh, non diventare dire. Ah, noi due stanno accoppiando il piede. Che vuoi che faccio? Che vuoi che faccio? Ok. Se hai mai sentito annientato. Ok. Aspetta. Sto inviando i dati. Dovresti... Ah, devo costruire cosa, proprio? Esatto. Ok, scudo dal capitano. Ok. Abbiamo un'opportunità. Quattro, tre. No, volevo... Allora. Sto inviando i dati. Che sono tornato. Capitano, attenzione! Sto, attenzione! Non si fa! No, non si fa! No, non si fa! No, non si fa! Cosa! ma non posso coltivere l'allie no? si ah poter c'è un'altra opzione non è lui che mi sale vai vai molto bello che ho fatto riempiamo tutto riempiamo riempiamo sui 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 Grazie per aver guardato il video. Qualcuno ha posizionato il mio cazzo padre è più maneggevole di quanto pensi a il è 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 non si chiude non si chiude guardate il giudico guardate il giudico Questa area è pericolosa. Correste a vedere il mio martello? Ma io faccio tutto. Corattini, esiste una sola strada per la pace, l'estinzione degli Avengers. Fini a vivo, ed or non più. Eppur non cado giù. Ho fatto di uno schifo quello. Non vuol dire quasi un cazzo. Parla. Sono qui per salvare il mondo. Che cos'è? Un messaggio? Lui lo conosco. Operava dalla costa africana. Armi di contrabbando. Ora dov'è questo tipo? Contabilità in modo. Conessi a versare. Eccomando. Secondo Stark, Ulysses Klau sarebbe su una nave denominata Churchill. Stiamo allerta. Ma ho delle spade laser con una tasca, che cazzo? Ho molte domande, onestamente amici ho molte domande. Però non credo nulla possibile. Ed eccoci qui. Sì. 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 Sì.